Siamo qui al Teatro Alfieri con l'attore e regista Maurizio Casagrande. Lei ha alle spalle una carriera trentennale. Il suo contatto con il mondo dell'arte comincia prestissimo, durante gli anni scolastici, quando si appassiona alla musica ed impara a suonare pianoforte e batteria. Ma quando e come nasce la sua passione per il teatro e per il cinema? Allora, se tu vedrai lo spettacolo, lo capirai, perché io lo racconto in un certo momento dello spettacolo. Però nasce per caso, come tutte le cose più importanti della vita, io credo. Nasce dal fatto che era un periodo difficile per i batteristi, perché alla fine degli anni 70 era stata inventata la batteria elettronica e quindi c'erano i batteristi più scadenti, tipo me, meno bravi, che trovavano difficile trovare lavoro, perché noi dovevano prendere una scatoletta, non la pagavano, la scatoletta la compravi una volta e poi non la pagavano in più. E quindi facevano con quella e comunque, insomma, poi con un papà, il papà straordinario che la vita mi ha regalato, attraverso lui mi sono avvicinato al teatro, perché mi sono avvicinato alla scuola di recitazione che aveva aperto mio padre, nella quale io insegnavo solfeggio, la ritmica, e mio padre mi aveva ovviamente coinvolto in questo progetto e quindi da lì poi mi sono appassionato. Poi, come capita, spesso sono i mestieri che ti scelgono, perché appena sono uscito sulla piazza, diciamo, a disposizione, sono stato subito chiamato da compagnie che mi hanno fatto fare un po' il giro d'Italia e quindi mi sono appassionato e mi sono trovato attore senza manco sapere. Infatti io per anni ho sempre pensato di essere un musicista che faceva l'attore e pensavo sempre a visto su Scima non se ne accorgono che io sono un musicista, non sono un attore. Poi a un certo punto mi ha detto, vuole come Scima, sono qui, e sono l'unico che non ha capito che sono un attore che vorrebbe fare musicista. Esatto, e quindi ho cambiato mestiere in qualche modo. Come l'è accennato, è figlio d'arte, ma com'era il rapporto con suo padre da un punto di vista artistico? Anche questo lo racconto nello spettacolo e anche questo è semplice da dire. Il rapporto tra me e mio padre è un rapporto che è nato ovviamente sui rapporti che hai con un genitore, quindi amore, affetto, che è naturale, ma a condire tutto questo ci è sempre stata un'enorme stima che io ho avuto per mio padre e che a un certo punto della vita ho conquistato in mio padre, quindi avere un papà che stimi, che ti stima, diventa una cosa che ti dà una grande forza. Lei è un'artista di enorme successo, attore di teatro, di cinema e anche regista, ma se dovesse descrivere la sua carriera con tre aggettivi, quali sceglierebbe? Aggettivi? Ma non lo so, guarda, casuale, perché io dico che è casuale, fortunata, perché se non hai la fortuna di fare certi incontri, di trovarti in certi momenti, hai voglia di fare, non succede niente. Attenta, io credo di essere uno che cerca di fare le cose giuste, questo sicuramente me ne vanto. Ma rivolgendosi ai giovani artisti emergenti e a coloro che sognano una vita nel mondo dello spettacolo, quale considererebbe il vero segreto del successo? Sembra strano, perché in un mondo di uniformità io credo che il successo invece è l'originalità, il vero successo. La fama, quella che ti dura un paio d'anni e poi scompari, quella, vabbè, la puoi fare anche facendo cose che fanno gli altri. Però invece io dico che quelli che rimangono per la storia, in qualche modo, anche quelli che non mi sono piaciuti, che però rimangono, e poi ti accorgi che quando li vai a rivedere col senno di voi dici, beh, però era veramente unico nel suo genere. Casomai è un genere che non ti piace, ma l'unicità, l'originalità. Io vengo, torniamo al discorso della musica, io vengo dagli anni 70. Noi facevamo il gruppo musicale, suonavamo, quando si faceva qualcosa, insieme componevamo, se qualcuno della band diceva, no, ma questa sembra, e quindi aveva la sensazione, quel pezzo veniva cancellato e non ci si lavorava più. Oggi diventerebbe un vantaggio. Qualcuno direbbe, ah, ma assomiglia a che le aveva un successo, facciamolo pure noi, simile, così rubiamo un po' di successo. Ecco, l'originalità, secondo me, è un grande dono. La Napoli raccontata dai media è spesso drammatica, attanagliata da problemi apparentemente senza soluzione. E poi c'è la Napoli raccontata nei suoi film, una Napoli che lascia senza fiato. Penso, ad esempio, ad Una donna per la vita. Ma qual è il suo rapporto con la città e con le sue origini partenopee? Una donna per la vita lo racconta perfettamente. Io sono convinto che Napoli è una città molto complicata, quindi non penso che tutto rose e fiori, non penso mandoline e cose, no. È una città anche drammatica, ma Napoli ha una natura che è la sua unicità. Credo nel mondo, sicuramente nel mondo occidentale, ha l'unicità di essere una città che vive il dramma con distacco e ironia. E quindi anche le cose più drammatiche, come la morte a Napoli, diventano una cosa diversa. Cioè, la chiesa di capuzzele sta solo a Napoli. È qualcuno che va lì e si adotta una capuzzele. È una cosa che fa parte della nostra cultura. Siamo capaci di essere antichissimamente moderni e quindi forse questa è la città di Napoli e io trovo devastante raccontare sempre e soltanto questi bestiali esseri che fanno parte della criminalità e che diventano quasi degli eroi a raccontare in questo mondo. Invece sono delle persone che fanno una vita ignobile. La loro e quella delle persone che incontrano diventano ignobili per colpa loro. Mi sono doppiamente ignobili. No, non credo sia il caso di raccontarli. Bisogna sapere che ci sono. Ma raccontarli e farli diventare l'unica Napoli che si conosce mi sembra un po' sbagliato. Per anni ha recitato al fianco di Vincenzo Salemme e Carlo Bucci Rosso, formando un trio che poi è stato il fiore all'occhiello del cinema e del teatro napoletano. Dobbiamo considerare chiuso questo sodalizio o in futuro potremmo vedervi di nuovo calcare le scene insieme. Guarda, non ho idea. Vedo difficile organizzare perché siamo tre artisti, mi permetto di chiamarmi d'altro, che hanno tanto da fare e hanno tanto da fare di loro. Cioè, ognuno di noi ha tanto da dire. E quindi bisognerebbe trovare qualcosa da fare insieme, tutti e tre, che ci permetta di avere ognuno la sensazione di dire qualcosa che gli interessava dire. quindi questa è la difficoltà e qui ci vorrebbe qualcuno che mette insieme tutto il giocattolo e avere un'idea e trovarla lì, la disponibilità di tutti e tre. Quindi queste sono le difficoltà. Problemi oggettivi non ce ne sono. Sono due amici cari con cui Vincenzo è proprio una specie di fratellino che mi è capitato. Carlo è una persona con cui ho condiviso dei momenti importantissimi e la vedi, quindi ti leghi e non c'è niente da fare. Però non so, mi auguro che possa accadere perché potrebbe anche essere una cosa molto divertente. Ma cosa farà da grande, casa grande? Ma prima che divento grande ci vorrete un po'. Io non diventerò mai grande. Penso di aver preso questa decisione. L'ho presa a 60 anni perché mi sono reso conto che per tutta la vita ho cercato di maturare. Poi a un certo punto ho preso la decisione ultimamente e la decisione è vabbè, vorrà dire che sarò un maturo immaturo. Vuole mandare un saluto ai lettori di Calvizzano Web? Un bacio grande e mi raccomando seguite cose belle. Leviamoci le cose brutte da torno perché le cose brutte ci imbruttiscono. Quindi circondiamoci di bellezza che ti rendiamo più belli.